So che tra colleghi non si parla male, mai male, però Graviglion vi ha fatto un bel regalo lasciando solo Volta alla fine. Difensore, dai! Ma si sa, quando si arriva agli ultimi minuti della partita, soprattutto dopo che giochi magari due partite in tre giorni, è facile magari perdere la concentrazione. È anche vero che ci abbiamo creduto fino alla fine, alla fine il gol è arrivato e insomma siamo contenti così. Che idea si è fatto a Caldirola di questa partita? Partita difficile, l'avversario tosto, l'avversario che gioca bene, ci ha messo in difficoltà, poteva finire pari, però insomma direi che qualche occasione in più l'abbiamo avuta noi tra il rigore, il palo e alla fine, ripeto, siamo contenti per questi tre punti perché insomma ci portano un po' più avanti. L'ultima, da parte mia, Caldirola, quando Pilon si è messo a specchio con la difesa a tre, voi mentalmente avete detto forse il Pescara ha un po' paura, proviamoci. Soprattutto perché giocavamo in casa, sapevamo che potevamo vincerla, abbiamo spinto un po' di più e alla fine abbiamo vinto e insomma è andata bene.